Il Centro Sociale Hauser di Savarna, Ravenna, ospita la Casa della Salute di Mezzano, Sant'Alberto. Questo progetto sicuramente è un fiorellocchiello per tutto l'hauser territoriale. Un'esperienza che dimostra la sinergia che c'è fra l'istituzione pubblica e il volontariato. Qui c'era un ambulatorio infermieristico di prelievi gestito da un'infermiera volontaria e l'esigenza di mantenere e conservare questo ambulatorio si è consolidata con il bisogno, la necessità dell'azienda sanitaria di avere la presenza di un medico che coprisse questo servizio. Da qui quest'idea luminosa, io la chiamo così, di portarci a casa all'interno del nostro centro sociale i medici. Siamo riusciti a creare un gruppo di medici, inizialmente otto medici a cui se ne sono aggiunti recentemente altri due, e ci occupiamo ovviamente di seguire tutta la patologia del territorio e anche siamo riusciti a realizzare poi l'ambulatorio per seguire le patologie croniche come il diabete, per cui i diabetici sul territorio vengono convocati da noi attraverso l'infermiera di riferimento e quindi seguiamo passo passo l'evoluzione della malattia e le necessità del paziente. Il ruolo dei volontari è l'apertura, la custodia degli ambulatori, il controllo, la verifica che tutto funzioni, che le persone siano soddisfatti. Il progetto è nato due anni fa, appena quando io sono stata eletta. Abbiamo lavorato in questo progetto, ci abbiamo pensato, riflettuto e poi abbiamo detto andiamo avanti. Apriamo una sottoscrizione, abbiamo avuto una risposta dal paese enorme, la sottoscrizione è andata più che bene. Diciamo grazie un po' a tutti. È stata una grande collaborazione, quindi noi dobbiamo dire grazie a tutti. Il numero dei sottoscrittori e l'ammontare della sottoscrizione ha toccato quel traguardo proprio perché era un servizio profondamente sentito dall'opinione pubblica. L'altro grande risultato è che abbiamo riscontrato quanta solidarietà ci sia fra le persone in queste zone. I benefici sono tanti perché effettivamente ha portato in questa struttura tanti servizi, cioè come il medico, gli infermieri, molto beneficio agli anziani e quindi è molto importante. Diamo un servizio eccezionale alla nostra gente e questa è la mission di questa grande associazione.